Buon pomeriggio a tutti da Pietro Sfataro. Allora, questo è il video per quanto riguarda i risultati della 35esima giornata di Serie A. Prima di salutare il video, voglio salutare un youtuber che si chiama Super Seba, che è un tifoso juventino. E i suoi video a volte ti fanno un po' divertire, diciamo, che questo ragazzo si merita di crescere, che ha 522 iscritti e spero che arrivi a 1000 iscritti, diciamo. Continua così Super Seba e ti voglio bene, e grazie. E poi un'altra cosa, faccio vedere due regali di compleanno. La prima è questa, 8, 8 scudetti consecutivi, dal 2012 fino al 2019. Poi, secondo, e basta, questo qua. Da 10 stemmi della Juve. Questo è quando ha vinto il suo primo scudetto nella sua storia. Poi questi qua, da quando ha iniziato a rivincere ancora, che è questo, dopo 5 anni, altri 5 anni qua. Prima di questo, quando ha vinto 5 scudetti consecutivi, quando ha iniziato la seconda guerra mondiale. Poi dopo questo è spuntata la prima stella della Juve nel 58. Poi nel 79, un altro bellissimo stemma. Ha avuto pure la seconda stella, forse negli anni 80. E poi dove ha vinto la prima Champions League dopo i 39 morti dell'Aisale, che è stato brutto, diciamolo. E poi quello che ha vinto la seconda Champions League contro l'Ajax a Roma. Ai calci di rigore. Bella è stata. Un bellissimo stemma. Anche questo è un bello stemma da quando ho visto quella ovale, pure bella. E qua siamo al presente. Questo stemma che vedete. Questa e questa. Quella centrale. 2017. Ok, vi ho fatto vedere questi regali. Se vi piacciono o no. E adesso partiamo subito con i risultati della 35esima giornata di campionato. Allora. Juventus Torino 1 a 1. Ve ne ho già parlato del post partita poco fa. Condoglianze alle vittime di Superga, diciamolo, dopo 70 anni dopo. Dopo lo schianto della... Lo schianto... Quando l'aero è stato schiantato a Superga. Chievo spalle 04. La spalle si è automaticamente salvata. Con tre giornate di anticipo. Nulla da dire. Che a segno sia Felipe, Floccari, ancora Felipe, e poi Kurtic. Il 4 a 0. Udinese Inter 0 a 0. Partita noiosa è stata. C'è. Questa partita Udinese Inter è stata... decisa dagli episodi arbitrali, diciamo. Sì, c'era un rigore per l'Udinese che ci doveva essere. L'arbitro non l'ha concesso. Poi ci doveva essere un'espulsione di D'Ambrosio per un... per la gamba tesa a piede dura a martello di D'Ambrosio. che era da espulsione questa qua. E poi c'era un rigore per l'Inter per... per... quando hai stata persa una botta ai cardi, diciamolo. Vabbè. Tanto il pareggio era giusto, diciamolo. Che... che hanno giocato bene entrambe. Così... questo solo dico. Poi, Empoli-Fiorentina. 1 a 0 per l'Empoli. Segnato Farias. La Fiorentina non vince più. Io... non mi sono fidato della vittoria della Fiorentina quando ho fatto il video dei pronostici. Che... io ho uno X ho detto che... ho indovinato. E sono stato bravo. Quindi, l'Empoli è ancora viva per la chiave salvezza dopo il pareggio dell'Udinese contro l'Inter? E ancora viva l'Empoli. O Empoli-Udinese retrocederanno. Sassuolo-Frosinone. Sassuolo-Frosinone per me il Frosinone è già retrocesso con tre giornate di anticipo. Il Sassuolo è già automaticamente salva dopo questo pareggio che gli serviva un punto e l'hanno ottenuto. Sì, è andata in vantaggio con... con Pina Monti il Frosinone e poi segna Paganini. Del Sassuolo segna... Del Sassuolo dovrebbe essere segnato Ferrari e poi Boga per il pareggio del Sassuolo. Poi Parma-Frosinone Parma-Sandoria Parma-Sandoria Allora Parma-Sandoria è stata molto bella e entusiasmante questa partita. Una delle partite... Io ho preferito di vedere Lazio-Atalanta che è stata... che volevo seguire la Dea che è stata molto bella seguirla. Prima parliamo di Parma-Sandoria Parma-Sandoria 3-3 C'è due minuti c'è Ravolo subito 1-0 Parma poi pareggia Quagliarella sul rigore che il fallo c'era e poi De Frelle sulla ribattuta del portiere del Parma 2-1 che finisce così il primo tempo ha un vantaggio Sandoria poi fa il 3-1 Quagliarella dopo un errore difensivo del Parma di Kuzka e poi calcio di rigore per il Parma Kuzka si fa perdonare e poi pareggia Bastoni e poi pareggia Bastoni per il 3-3 poi ci sono state due espulsioni allora hanno espulso Colle e Giamonita Colle e poi al 96esimo è espulso Kuzka quando gli ha perso la testa dopo essere stato ammonito adesso passiamo a Lazio Atalanta Lazio Atalanta è stata decisa da un difensore Wallace Wallace che è stato uno dei peggiori in campo tre errori tre gol ha fatto la Lazio parte subito bene con il gol di Parolo poi pareggia subito l'Atalanta con Duvan Zapata poi nel secondo tempo un altro errore di Wallace che è che è stato molto bravo Gomez e gli ha trovato Atebur e di qua fa l'1-2 che l'Atalanta sta arrivando alla zona Champions spero che ci arrivi perché se lo merita che sta facendo una stagione super positiva il 3-1 l'ha fatto Torrete Wallace non era gol di Jim City su calcio d'angolo e poi passiamo a Geno Roma Geno Roma per me è stato solo nei minuti finali più bella nel frio tempo non è successo niente diciamo allora la Roma segna El Charoui il gol dell'ex l'1-0 Roma poi pareggia il Genoa con Christian Romero e poi il Genoa ha sciuppato un'occasione per vincere la partita gli ha concesso calcio di rigore più del 91esimo forse al 94esimo gli ha fischiato che il fallo c'era che il portiere forse gli ha fischiato fallo gli ha fatto fallo Mirante poi parte Sanabria e Mirante lo para che prende un punto importante per la Roma poi Napoli Cagliari Napoli Cagliari che non mi è piaciuto di come di come ha gestito un po' la la partita allora forse solo una ne ha sbagliato l'arbitro l'errore del 94esimo sul rigore il rigore del Napoli poi dopo ne parliamo il Cagliari è andato in vantaggio con l'unica l'unica azione l'unico tiro in porta che segna Pavoletti il gol dell'ex che è stato pure un ex Napoli diciamolo che nel primo tempo il Cagliari non ha fatto nulla il Napoli si meritava questa vittoria il Napoli pareggia Mertens e poi sul calcio di rigore che il fallo era da fuori aria perché abbiamo visto sulle immagini ha toccato qua il gomito sinistro che era il fallo che era fuori non doveva concedere quel rigore ma l'arbitro ha sbagliato diciamolo quindi il Napoli matematicamente secondo con tre giornate di anticipo e adesso passiamo all'ultima Milan-Bologna Milan-Bologna è stato il primo tempo è andato in vantaggio con Suso prima del vantaggio con Suso gli è stato annullato il gol di Palacio in fuorigioco ha fatto la sua partita il Bologna allora poi nel secondo tempo arriva il 2-0 di Fabio Borini dopo la respinta del portiere il 2-0 e poi fa il 2-1 l'ex destro poi ci sono state tre espulsioni quella di Paquetà quando è stato munito gli ha perso la testa gli ha messo le mani addosso all'arbitro e gli ha dato tre turni di squalifica stagione finita per Paquetà mi dispiace per lui così ti pagano gli errori i giocatori che perdono la testa e poi dopo il 94 2 espulsioni ci sono state una partita quasi finita e l'altra quando è finita la partita è stato espulso Sansone è già munito e poi Dick Dykes quando gli ha protestato con l'arbitro ed è finita qua la storia questo video è stato lungo non ho nient'altro da aggiungervi se questo video vi è piaciuto vi invito di lasciare un mi piace di commentare qua sotto se non siete iscritti iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto se siete più iscritti vi spunta la campanella cliccate per ricevere notifiche sui miei prossimi video che usciranno seguitevi su Facebook e soprattutto su Instagram ci vediamo presto che domani c'è la partita di Champions tra Liverpool e Barcellona che stasera è il Liverpool-Barcellona domani ci sarà Ajax-Tottenham partite di Champions molto importanti che andrà in finale per me come l'ho pronosticato io andate a vedere i miei video precedenti quello che ho pensato io è Ajax-Barcellona ci vediamo presto e forza Juve ciao belli